Buon pomeriggio, eccoci qua al nostro appuntamento del NEP Coffee Book, siamo alla nona puntata e oggi ho il piacere di avere in questo spazio a noi dedicato la nostra carissima autrice Amalia Viti. Ciao Amalia, ben arrivata. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, perdonatemi se durante l'intervista la chiamerò Lia, ma noi fra amiche la chiamo in questo modo, quindi voi leggerete Amalia che è il suo nome diciamo di battesimo, ma noi fra di noi ci chiamiamo Lia, quindi mi potrebbe scappare, lo dico a chi ci ascolta. Allora, Amalia è un'autrice che con noi ha scritto un libro che si chiama Tra magia e realtà, un libro di cui andremo a parlare tra qualche minuto, ma in realtà è una scrittrice a tutto tondo, scrive diverse cose, ora impareremo un po' a conoscerla e se voi avrete delle curiosità o delle domande da porle, scriveteci pure sotto il video perché noi leggeremo durante l'intervista tutti i vostri commenti, le vostre richieste, le vostre domande e Lia sarà felicissima di rispondervi. Allora Lia, vorrei iniziare come al solito presentandoti, cioè non tutti ti conoscono e quindi chi è Lia? Chi è Amalia Viti? Cosa fai nella vita? Cosa vorresti che arrivasse ai tuoi lettori? Allora, chi sono? Sono un'insegnante, anche se adesso ex, però rimani comunque sempre un'insegnante nell'anima, ho sempre diciamo avuto il piacere di stare con i ragazzi perché io ho insegnato nelle scuole medie e con i bambini perché ho fatto anche volontariato proprio perché adoro i bambini anche se neanche ho scritto sempre per loro. Niente, cosa faccio? Io amo scrivere, ho sempre scritto da quando ero piccolissima, da quando mi hanno messo la penna in mano io ho cominciato a scrivere, quindi è una cosa che amo fare e penso che il fatto di non avere una sola, un solo modo di esprimermi sia un po' indice della mia personalità che è abbastanza eclettica, cioè io faccio tantissime cose, magari forse non le faccio bene perché ne facendone tante, però... No, 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 non ti buttare a terra non è assolutamente così, assolutamente, anzi, anzi. Grazie. Lei adesso è un'autrice che vive a Roma, giusto? Ma in realtà la tua origine non è quella romana. No. E lo impareremo un po' a scoprire. Ecco, vorrei che emergesse questo perché più tardi ne parleremo e manderemo al nostro pubblico un saluto di questa terra napoletana. Senti Amalia, qual è il genere di scrittura che senti più che ti appartiene? Cioè senti tuo, dove ti rispecchia particolarmente? Ma io penso nella poesia di tipo napoletano sicuramente, perché ne parleremo dopo, però in realtà diciamo io nasco a Napoli e sono come tutti i napoletani quella che un po' per Napoli non ha avuto un occhio proprio felice, però quando me ne sono dovuta allontanare invece ho imparato a dare. Che è mancata. E quindi diciamo che forse quella è l'espressione con cui più sono io, no? Sono quella che più diciamo si mette a nudo con i sentimenti. C'è chi dice che il vero valore delle cose lo scopriamo quando non li abbiamo più e probabilmente ti è successo questo, nel senso che Napoli ti è rimasta nel cuore senza che te ne rendessi conto e poi l'hai portata con te nelle tue pagine scritte insomma. È un po' questo quello che è successo. Però dato diciamo il tuo lavoro di insegnante, tu sei anche una nonna, insomma hai a che fare sempre con i bambini, non hai mai smesso di amare i bambini, hai scritto delle fiabe. Ed ecco qua il libro che andiamo a presentare oggi, Tra magia e realtà, illustrato da Miriam Palumbo. All'interno parlaci un po' di questo libro, come nasce questo progetto, come hai fatto a raccogliere queste favole, queste fiabe differenti. Sì, questo libro nasce un po' per caso, diciamo, perché come dicevi tu prima io ho sempre un po' scritto un po' di tutto. Però diciamo che ho avuto l'idea di raccogliere queste fiabe un paio d'anni fa perché io raccontavo sempre le favole ai miei nipotini, magari la sera devono andare a dormire. Nonna ci racconti una fiaba, io raccontavo, però che succedeva che se la volta dopo mi dicevano mi racconti quella fiaba e io gliela riraccontavo, però naturalmente nella memoria le esatte cose non ce l'avevo. Certo. E finivo con magari dire qualcosa di diverso, ma loro mi chiamavano. E non era così però qui. Eh nonna, ahiai, ahiai, ahiai. Ho deciso di mettere questi bambini. I bambini sono incredibili. Sono la bocca della verità. Sì, 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 infatti. E diciamo che allora le ho scritte. Naturalmente tra dire e raccontare e scrivere se ne passa un po'. Per cui che cosa è successo? Che nello scrivere ovviamente queste fiabe sono state rielaborate e anche diciamo è venuto fuori molto di quella che è la mia esperienza di vita, per cui attraverso queste fiabe si è inserita molta realtà ed è questo il motivo per cui poi il titolo scelto è stato questo. Bellissimo. Perché la fiabe è fatta dalla magia ma è fatta anche dalla realtà e le due cose mescolate insieme sono il mondo dei bambini. Perché i bambini hanno molto dentro di di sé questa capacità di eh rendere la la realtà fiaba e quindi è verissimo. A proposito di quello che hai detto eh vorrei leggere una parte della prefazione scritta da Rosa Simonelli Macchi, un'altra autrice eh nostra carissima amica con la quale Amalia ha anche altri progetti in essere di cui parleremo più tardi. Vi voglio leggere questa parte della prefazione proprio perché ehm spiega nel dettaglio come ehm l'IA riesce a rendere attraverso la fiaba quindi uno strumento dedicato ai bambini una parte della sua realtà, del suo vissuto, della sua vita. La funzione della fiaba per esempio ha principalmente lo scopo di orientare sul messaggio attraverso un mondo meraviglioso costruito ed un linguaggio che si fa significante ossia veicolo pratico carico tuttavia di significato ossia di un'idea precisa da comunicare. Cioè l'IA attraverso la fiaba che diventa quasi un contenitore quasi una veste in realtà porta a noi lettori un significato molto importante che è un significato reale, concreto. Quindi è quasi diventa la fiaba per te uno strumento per comunicare dei valori, dei messaggi. Infatti più tardi leggeremo una pagina di alcune delle tue fiabe dove si parla anche di diversità, di come i bambini si accostano fra di loro. La magia è la capacità dei bambini, dei poeti, degli artisti di credere all'esistenza di cose che non esistono pur sapendo che non esistono. Questa espressione pare poco chiara, forse simile quasi ad una contraddizione ma non è così. Infatti la verità della fiaba sappiamo che non può essere documentata come quella di un fatto storico o di un vissuto vero e proprio ma non cessa di esistere. La verità delle fiabe è infatti quella dei simboli, quella del linguaggio particolare ma comprensibile a tutti. E la bellezza di questo libro, lo vorrei veramente urlare a chi ci sta ascoltando, è proprio questo che attraverso la fiaba, queste cinque fiabe che Amalia raccoglie, veramente viene veicolato un messaggio reale e concreto vicino ai bambini, vicino ai più piccoli ma anche vicino agli adulti perché poi si fanno tramite di un messaggio che alla fine è destinato a tutti. Perché Lia non si riferisce solo ai bambini, tu hai raccontato benissimo l'origine di questo libro ed è stupenda, cioè nasce proprio dalla voglia di raccontare ai tuoi nipoti delle storie. Però poi è diventato altro, è diventato un libro vero e proprio che raccoglie tutto questo. Qual è la fiaba fra quelle del libro alla quale sei più legata? Se ce n'è una, eh? Sì, diciamo un po' tutte perché chiaramente come dicevo sono legate al vissuto anche personale, però forse quella che dico sempre è più nel mio cuore è quella dei due bambini nella scuola, cioè Paura e Young sono i due personaggi che appunto come dicevi tu sono lo specchio della diversità, uno per un motivo e l'altra per un altro e che invece riescono poi a legare e a trovare un punto d'incontro che li renderà normali, tra virgolette, ma in realtà daranno agli altri invece un messaggio secondo me importante che alle volte bisogna avvicinarsi e trovare qual è il punto d'incontro con chi non è esattamente come noi, perché forse possiamo aiutare a fare qualcosa. Probabilmente, correggimi se sbaglio, in questo i bambini sono molto più bravi degli adulti a volte. Non c'è dubbio. Nel senso che mi è capitato, forse a te più di me, di avere a che fare con bambini e ti rendi conto che la loro spontaneità, la loro ingenuità per certi versi è la chiave vincente per sconfiggere appunto quelle barriere che gli adulti si creano. Sì, le volte la diversità non è neanche riconosciuta perché può essere una diversità. Hai espresso benissimo il concetto. Ecco, nel caso per esempio della bambina che si chiama paura, diciamo che questa sua diversità è proprio il fatto di essere una bambina piena di paure, ma non si sa queste paure da dove arrivano e perché ce le abbiano, ma ci sforziamo di capire perché un bambino ha paura, oppure gli diciamo solamente non devi avere paura perché non ce n'è motivo. Diciamo che un po' il like motive anche della mia presenza nella scuola, io ho fatto un insegnante di sostegno per questo periodo e mi sono accostata a tantissime situazioni, ma questo comunque non significava che gli altri bambini non avessero bisogno di un aiuto perché tutti i bambini comunque, colpa un po' forse nostra, hanno comunque qualcosa da chiarire, no? E quindi diciamo che io ho insegnato tanti anni sempre tenendo di mira il fatto che davanti a me vado le persone con cui volevo in qualche modo relazionarmi e questo mi ha aiutato anche a capire tantissime cose. Devo dire che devo molto ai bambini comunque, perché mi hanno dato veramente tanto, io sono riuscita veramente a capire tante cose di me che forse non avrei capito in altre situazioni. Che bello quello che hai sottolineato, quello che i bambini sono riusciti a fare nella vita di un adulto, no? Come la segnano e la cambiano. Senti Lia, ti pianterebbe di leggerci qualcosa del tuo libro? Sì, allora non so adesso io veramente avevo pensato di leggervi prima di tutto un quadro, diciamo così, di una delle fiabbe che per farvi un po' capire quello che è lo spirito fiabbesco della cosa. Esatto, molto volentieri. Questa è praticamente una fiabba che si intitola Dov'è inverno? E un titolo un po' strano, suggerito da una delle mie nipoti un giorno, mi ha detto nonna scrivi una fiabba dove è l'inverno. E allora io ho inventato un personaggio che è inverno e in questa fiabba c'è anche una fata naturalmente con me da copione che si chiama Fata Primavera. Faccio vedere la copertina della fiaba. E io ho scelto questa parte dove si racconta di Fata Primavera che deve andare a questa grande festa che si farà nel castello di Re Inverno e le sue amiche fate gli hanno preparato il vestito. Eccolo qua. Le fatine volarono cantando intorno a Primavera e la bendarono. Lei rese felice. Sapeva che la sorpresa ci sarebbe stata ed infatti dopo averla letteralmente trasportata nella stanza dove era l'abito le fate l'aiutarono ad indossarlo. Le acconciarono i capelli e quando si ritennero soddisfatte del risultato la posizionarono davanti al grande specchio. Ora Fata Primavera ti toglieremo la benda. Se l'abito che abbiamo preparato non ti piacerà avremo poco tempo per farne un altro. Ma lo faremo perché tu devi essere la più bella. Grazie, mi fatine. Sono certa che sarà bellissimo. Primavera restò immobile a guardare il suo riflesso nello specchio. Non avrebbe mai immaginato che le sue amichette riuscissero a fare tanto. Ma siccome non pronunciava parole e la sua bocca era aperta, in realtà per la meraviglia le fattine cominciarono ad agitarsi. Te l'avevo detto di non mettere tutti quei luccichini tra i fiori, disse Palmina. Ma io penso invece che siano troppi fiori, ecco, disse Angelina. Fata Primavera le guardò e con affetto disse Oh miei cari, non avrei mai immaginato un abito più bello. L'abito rappresentava l'arcobaleno con tutti i suoi colori brillanti e cascate di fiori di ogni colore che lo rendevano ancora più luminoso e allegro. Il corpetto era pieno di lustrini con cui erano disegnati tutti i fiori più belli e per Cinta gli erano uccellini veri che cinguettavano allegramente restando in volo intorno alla fata. Sul capo una vera corona con piccoli alberi fioriti su ognuno dei quali erano piccoli frutti diversi. Primavera era davvero bella e danzò felice con le sue fatine. Intanto, e qui poi... Poi vediamo cosa succede intanto. È bellissima questa pagina perché attraverso una descrizione riusciamo a capire bene anche qual è il tuo stile di scrittura con il quale appunto ti approcci a questo genere letterario che è quello della Fiava. Una scrittura semplice, veramente alla portata dei bambini, però che regala comunque quello stupore, quell'emozione, quella dialettica che è tipica dell'età alla quale tu ti rivolgi, insomma. E credo che questo passo che tu hai scelto riesce a racchiudere quel mondo che un bambino forse vuole ritrovare in un libro, quella magia, quei colori, quella bellezza, senza dimenticare però i rapporti umani. Perché tu hai utilizzato un termine che è quello di amichette. Cioè, nella Fiava comunque ritroviamo quegli elementi che il bambino ritrova attorno a sé. E questa è la particolarità delle Fiave di Lia. Cioè, il bambino sa di non essere una fata, la bambina sa di non essere una fata, però percepisce attraverso queste pagine qualcosa di reale. perché attorno a sé ha delle amiche con le quali confrontarsi a scuola, con le quali crescere e vivere. E quindi quel rapporto umano viene racchiuso in questa pagina e Lia lo fa in maniera veramente egregia in queste… Ti ringrazio. Il rapporto umano in queste Fiave lo si trova moltissimo in altre due Fiave che però chiaramente non leggeremo che sono il Paese di Senza Capelli che viene da un'esperienza personale di volontariato e poi anche il Paese dei bambini cattivi, considerando che i bambini cattivi non esistono e che in realtà in questo Paese ci sono dei bambini cosiddetti cattivi. E lì il rapporto umano è fortissimo ed è molto importante leggere magari per capire meglio che forse alle volte si danno delle direttive su una persona ma poi alla fine… Delle etichette magari. Veramente fin dove è come noi pensiamo che sia, cioè approfondire il rapporto umano. È verissimo. Lia, quale altre parti volevi leggere ai nostri ascoltatori? Allora, visto che avevo detto di Paura e Yong, volevo leggere appunto un piccolo passo, un'altra piccola pagina di questo incontro tra la bambina che si chiama Paura, proprio perché è sempre impaurita, e questo bambino straniero, Yong, che è un bambino cinese, che arriva a scuola. Già a inizio anno cominciato, quando ormai tutto è stato stabilito, i bambini sono già tutti posizionati nei loro banchi, l'unica a rimanere sola nel banco è Paura, e arriva questo bambino cinese. Faccio vedere la copertina. Un giorno la maestra, entrando in classe, annunciò, bambini, oggi è un giorno speciale. Da oggi infatti, nella nostra classe, verrà un nuovo alunno, un bambino che si è da poco trasferito nella nostra città. Accoglietelo bene e fate in modo da farlo sentire a proprio agio. Detto ciò, la maestra aprì la porta e prese per mano un bimbetto, più piccolo di quanti i suoi sei anni prevedessero. Aveva gli occhi allungati e un colorito leggermente giallastro, ma a paura di tutto ciò, non aveva visto niente. Il suo sguardo, conficcato nelle pieghe del suo banchetto, non aveva sfiorato neanche un attimo il nuovo arrivato. Quando però la maestra riprese a parlare, seguì attentamente quello che stava dicendo. Young, questo è il nome del vostro nuovo compagno. Viene da un paese lontanissimo e molto bello, la Cina. Poiché l'unico banco libero è quello accanto a te, Paura, Young sarà il tuo compagno, sarai tu ad informarlo di quanto facciamo qui. Paura diventò rossa. Il suo sguardo disperato si sollevò dal banco, pronto a pregare la maestra di non mettere il nuovo compagno accanto a lei. Ma non ebbe il tempo di dire niente. Lei era già lì, con Young. Allora sollevò lo sguardo su di lui e vide il bambino aveva gli occhi bassi, puntati a terra. Non la guardava e non guardava nessuno. Paura si rese conto che in realtà non aveva proferito una sola parola da quando era entrato. Si chiese se parlasse solo cinese. Si sentì anche un po' sollevata. Tutto sommato, non le avrebbe dato tanto fastidio. Infatti Young non la guardò mai. Nelle rivolse la parola per tutta la mattinata. Anche paura lo ignorò. In seguito però i due bambini si rincontreranno. Vi leggo solo questo pizzettino piccolissimo tanto per farvi capire. La maestra decide di allontanare i due bambini perché in realtà non parlavano proprio per niente. Allora decide di mettere con altri compagni in maniera da dare la possibilità appunto di relazionarsi. E dice ai bambini da questo momento Young il tuo posto sarà. A quel punto non terminò neanche la frase che Young si girò verso Paura e per la prima volta guardandola dritto negli occhi le gettò le braccia al collo abbignandosi letteralmente a lei. Paura sgranò gli occhi e rimase immobile. Fino ad allora lei aveva abbracciato solo la sua mamma e il suo papà e quel bambino per lei era un perfetto sconosciuto perché le si attaccava così. Nonostante tutto non cercò di staccarlo non si mise a piangere era semplicemente così stupita da non riuscire a fare nulla. Questo è un momento in cui loro si incontrano e poi dopo ci saranno altri sviluppi particolari dopo questo questa conoscenza tra i due bambini che poi succerà in un'amicizia però insomma poi è abbastanza elaborato. Sai penso che è stato già così in questo libro si presti molto anche in laboratori proprio scolastici infatti è uno dei progetti che l'IA ha proposto e porta avanti perché come abbiamo detto fino ad oggi ad ora queste fiabe riescono veramente a tirar fuori dai bambini determinate emozioni determinati scogli determinate paure determinati modi di relazionarsi e quindi può essere uno strumento didattico di crescita assolutamente. Noi avevamo cominciato proprio a fare dei laboratori in alcune scuole qui della nostra zona della mia zona io sono a Montesacro però purtroppo il coronavirus ci ha bloccati e in realtà penso e spero che avremo modo di riprendere il prossimo anno a farli questi laboratori perché comunque le prime lezioni i bambini si erano appassionati perché poi comunque facciamo tutta una parte abbastanza diciamo manuale dopo anche perché poi il bambino si medesima nei personaggi no? Diventano quasi degli amici immaginari a cui affezionarsi senti Lia cambiamo un po' scenario e possiamo annunciare felicemente che oggi è uscito il secondo libro della collana intanto scrivo con la quale abbiamo già pubblicato il primo volume presentato la scorsa settimana e insomma è uscita la prima in realtà miscellanea ovvero i ragazzi dell'iniziativa intanto scrivo alla quale NEP Edizioni ha aderito come partner editoriale hanno raccolto nel periodo di quarantena lo sto un attimo riassumendo per chi magari non conosce l'iniziativa hanno raccolto e stanno raccogliendo ancora quindi per chi volesse ancora farlo sono ancora disponibili a raccogliere scritti di questa quarantena quindi di scrittori non scrittori di chi si è cimentato autore di chi si è trovato a scrivere una pagina di diario personale chiunque abbia scritto abbia voglia di scrivere di questa quarantena di come ha vissuto questo lockdown di come ha vissuto questa pandemia mondiale e loro hanno raccolto questi scritti e tra alcuni degli scritti c'è qualcosa che riguarda te Amalia ed è proprio raccolto nella prima miscellania che si chiama Rapsodia purtroppo non ho ancora qui il volume cartaceo perché è stato pubblicato ieri e non mi è ancora stato consegnato dalla tipografia quindi mi dispiace non poterlo far vedere ma lo potete trovare già ordinabile sul sito e su tutti i nostri canali sui quali potete trovare tutti i nostri libri e nella collana appunto intanto scrivo Amalia cosa ti ha spinto a scrivere in questo periodo cosa hai voluto mandare al team di intanto scrivo va bene io considerando che ho sempre scritto in questo periodo ovviamente ho avuto un primo momento proprio di blocco nel senso che era talmente tutta come penso che è successo a molte persone poi rilassandomi e stando in casa ho cominciato a scrivere qualcosa poi ho trovato questa cosa di intanto scrivo che faceva la raccolta di tutti gli scritti eccetera e ho deciso di cominciare a mandargli una cosa e gli ho mandato una fiabba che tra l'altro avevo scritto per i miei nipoti che in questo periodo erano a casa con la nonna tra l'altro volevo piccola parentesi volevo ringraziare tutti per la cura con cui sono stati trattate le cose ci hanno fatto i disegni insomma tante cose carine e poi sulla scia di quello gli ho mandato alcune riflessioni che avevo fatto una poesia in napoletano perché insomma ovviamente il coronavirus e così un po' di cose devo dire che loro ho avuto la lieta sorpresa di sapere che hanno deciso di fare un libro con tutte le cose che gli sono state mandate e che hanno incluso anche le mie o almeno alcune io non so cosa abbiano messo ma insomma alcune cose mie sicuramente perché c'è il mio nome quindi assolutamente sì lo confermo ed è stata una cosa molto bella molto piacevole sono molto ansiosa di vedere il libro l'ho visto ho visto diciamo la copertina abbiamo annunciato ieri l'uscita infatti con il team di intanto scrivo abbiamo deciso ieri di divulgare appunto l'uscita del libro davvero bello e sono contenta che tu come autrice come scrittrice abbia potuto donare un po' di te perché alla fine quello che è questa iniziativa vuole racchiudere e sia quella di un'intimità perché nel momento in cui c'è stata questa pandemia ci siamo ritrovati davanti a un foglio bianco magari c'è anche un mio scritto nella raccolta Rapsodia un momento di magari solitudine di riflessione ma in realtà l'atto bellissimo che il team di intanto scrivo ha visto e ci ha visto lungo è quello che quel qualcosa non resta dentro di te ma lo doni agli altri e intanto scrivo è stato strumento perfetto per donare agli altri per questo che noi di NEP edizioni abbiamo voluto creare una vera e propria collana editoriale con il nome di intanto scrivo nella quale raccogliere qualora loro lo vorranno tutte le possibili pubblicazioni che loro avranno approfitto per leggerti un commento di intanto scrivo che dice complimenti ad Amalia una scrittrice versatile e poliedrica che abbiamo avuto modo di leggere e apprezzare in generi differenti grazie per averci donato frammenti della tua interiorità in quarantena e per aver voluto far parte della nostra iniziativa invece Pierpaolo Polcaro ha commentato la parte iniziale della nostra intervista dicendo per quanto possa apparire semplice la fiaba in realtà ha un genere complesso e insidioso di sicuro non da tutti l'abilità di un bravo scrittore sta proprio nel riuscire a veicolare contenuti profondi anche attraverso una scrittura apparentemente essenziale e disadorna è proprio quello che fa Amalia Viti avvolgendo il reale con la magia in un mondo che ora come non mai ha bisogno di essere colorato dall'innocenza dei bambini parole assolutamente tante ringrazio tutti per queste parole che sono veramente molto molto belle e coinvolgenti insomma grazie senti Lia grazie a te a proposito di diciamo un altro genere letterario nel quale tu appunto ti rappresenti ti andrebbe di leggerci uno scritto inedito quindi una tua poesia napoletana per donare un po' di te al nostro pubblico sì allora io sempre nell'ambito del coronavirus ho praticamente scritto tante cose l'ultima in ordine di tempo è questa che però non ho mandato intanto scrivo è una riflessione sul mio giardino vai si intitola è in napoletano o chardiniel cioè il piccolo giardino ma faccio a finestrelle e casa mia e vega col giardino si è fiorito l'addore l'erba fresca già mattina e sciura ovvero poca so spuntato a ricordà che amore è primavera a reta piante e oliva una uccelluzza sartanna come fosse una pagliuzza sova cercanna dinta terra a spoglie qualcosa può cavarsi una voglia una farfalletta senza culore sa gira fiora e portano alle rive di un tuo cuore coppo gazeba una cornacchiella sola si ferma a guardare in tuo giardino indecisa si vula sull'erba fresca tra me che ci pensa e la resta arriva una colomba bianca e nera la guardana si attuora a vera pare che si avvicina chiano chiano e quando si arriva vicino a essa ecco che la cornacchiella si è decisa e se ne vola a do non è precisa sui ciardiniella mi pare quasi una foresta che tutti i giorni passano ocelle ocelle farfalle e insetticelle maliziosi cercando non si sape mai che cosa e vota qualcuno si posa e gira e vota senza paura posso pure asci perché mi guarda la capuzella ha votato come a dicere che ci fai qua che succede ormai è nostra proprietà come sei asciuto così te la puoi tornare bellissima la tua verba napoletana stupenda ti ringrazio no grazie a te per questo pezzo di storia tua e della tua formazione prima di lasciarci volevo farti una domanda che mi è venuta in mente stamattina quando abbiamo pubblicato la tua intervista che hai lasciato per neppedizioni ad un certo punto dici che uno dei tuoi libri al quale sei particolarmente legata è Va dove ti porta il cuore allora mi viene da chiederti oggi dove ti porta il tuo cuore oggi cioè a cosa sei protesa dopo tutta questa pandemia questo coronavirus dopo aver capito che la scrittura fa parte integrante della tua vita e lo è anche nel trasmettere qualcosa ai tuoi nipoti oggi il cuore di Amalia dove va? il cuore di Amalia diciamo per quanto riguarda la scrittura va verso le mie poesie napoletane cioè penso allora io ho tantissime cose come penso tantissime persone che scrivono cassetti pieni armati pieni di roba da mettere a posto da sistemare racconti fiabbe eccetera però ho deciso di mettere insieme tutte le mie poesie napoletane ultime quelle che ho scritto negli ultimi anni non le ho mai raccolte di farmi una pubblicazione perché diciamo è forse quello il mio cuore Napoli e rimarrà sempre quello devo dire che è emerso in ogni sfaccettatura il tuo cuore in questa chiacchierata io ti ringrazio perché con semplicità però anche con intensità ti sei messa a disposizione di Nepp Edizioni ma soprattutto dei nostri ascoltatori hai arricchito il nostro pomeriggio insieme mi sento veramente di ringraziarti personalmente di questo pezzo di te che ci hai donato insomma io ringrazio te intanto come Nepp Edizioni e tutti quanti intanto scrivo per la loro parte tutti quelli che ci hanno ascoltato e grazie per avermi dato la possibilità di assolutamente presentarmi e insomma di parlare un po' di me che non è una cosa che avviene tanto facile e infatti non è semplice che gli autori si mettano così a nudo io invito tutti a se volete se vi è incuriosito il libro di Amalia Viti questo ma anche appunto Rapsodia e gli altri libri di Nepp Edizioni a visitare il nostro sito www.neppedizioni.com trovate la sezione dei libri e-commerce potrete acquistare i libri direttamente lì oppure su tutti i portali Amazon, IBS e Petrinelli o ordinarlo in tutte le vostre librerie di fiducia io vi ringrazio vi do appuntamento a giovedì prossimo con Renato Gadaleta e buona pomeriggio a tutti e buon caffè grazie Amalia ciao grazie a te ciao ciao a tutti grazie grazie grazie